ciao oggi voglio parlarti del viaggio che cos'è il viaggio il viaggio è una grandissima opportunità non è solamente un viaggio che fai per esplorare come un turista dei luoghi nuovi magari il viaggio è qualcosa che ti permette di entrare in connessione con nuove energie infatti potresti goderti il viaggio anche come ho fatto io oggi ad esempio essendo in una nuova città oggi sono a qua la lupur in malesia stando in albergo o in un appartamento senza uscire senza fare niente di speciale perché comunque tu hai la possibilità di goderti un luogo anche attraverso l'energia che questo luogo ti trasmette che cosa ti è possibile fare in un luogo piuttosto che in un altro luogo questo l'ho vissuto tante volte perché spostandomi io continuo anche a portare avanti la mia missione tutto quello che fa parte proprio del cammino che sto facendo su di me e sulle altre persone e quindi questo mi permette proprio di godere anche del viaggio in un altro modo ma cos'è per te il viaggio il viaggio sicuramente è un modo per vedere nuovi posti ricordati che il viaggio non è solo un viaggio che fai fuori ma è un viaggio che tu fai anche dentro di te e il viaggio è molto importante per questo perché ti porta e ti permette di entrare in contatto attraverso anche nuovi luoghi che ti stimolano visivamente e stimolano anche tutti i tuoi sensi ti permette di entrare in contatto con nuove esperienze di metterti alla prova e di sperimentarti in queste nuove esperienze chi sei tu attraverso il viaggio hai la possibilità di viaggiare anche dentro di te di scoprirti maggiormente di comprendere maggiormente attraverso tutta una serie di sollecitazioni la tua persona come si comporta chi sei tu quando non sei nella tua zona comfort nel tuo ambiente abituale come ti comporti sei una persona che magari ama muoversi ama esplorare oppure una persona che ama semplicemente le comodità e non si vuole esporre troppo qualunque cosa tu vivi attraverso il viaggio viene moltiplicata e ti permette di esplorarti molto più profondamente e di conoscerti in alcune sfaccettature che normalmente non conosci quindi fammi sapere chi sei tu attraverso i viaggi che tu stai facendo che hai fatto nella tua vita e che cosa ha scoperto nei tuoi viaggi che cosa ti hanno permesso di scoprire di te i tuoi viaggi scrivimelo qui sotto sotto questo video e vedremo che cosa esce da questa bellissima esperienza che potremo fare tutti assieme con questo confronto ciao buonissima giornata o buonissima serata secondo di dove ti trovi un abbraccio